Musica Benvenuti a una nuova puntata di 15 minuti con il programma di approfondimento della nostra rete. L'ospite di oggi è il comandante provinciale della Polizia Stradale, dottor Gaetano Di Mauro, a cui io do il nostro benvenuto. Salve a tutti quanti voi. Allora comandante, dedichiamo questa puntata a un tema sempre attuale, che è quello della sicurezza stradale. Effettivamente purtroppo è una piega che non si riesce a colmare, a risanare del tutto? Allora, è un campo sicuramente complesso, perché non ci si può mai rilassare. Bisogna essere sempre allerta, quindi fare sempre una continua attività di prevenzione e di controllo. Però posso anche dire che è un settore, a differenza di quello che si crede, cioè che talvolta incidenti cadono dall'alto, una casualità. Non è così. Il 97% degli incidenti dipendono da un errato comportamento, da un mancato rispetto del codice della strada. Quindi facendo delle buone campagne di prevenzione e di controllo, si può intervenire. Tant'è che se andiamo a vedere il decennio passato, 2000-2010, i risultati statistici in termini di incidenti, di feriti e di vittime, vi è stato in ambito nazionale, così come anche la provincia di Ragusa, una riduzione del numero delle vittime del 40%. Tutto questo è stato fortemente voluto dall'Unione Europea e è stato fortemente voluto dallo Stato, che in questi dieci anni ha più volte modificato le norme al fine di renderle più stringenti, più, se vogliamo, severe, introducendo anche varie norme, quali la patente appunti, che hanno dato sull'immediato un effetto notevole. Insomma, per dire che è possibile fare qualcosa e tutto ciò che è possibile farlo, per ridurre anche di un solo numero di vittime della strada, bisogna farlo. È sempre un successo salvare qualcuno. Assolutamente, sì. Ecco, lei nella sua risposta ha risposto a quasi tutte le domande che io avevo intenzione di farle. Cerchiamo di chiarire, di fare un quadro di quelli che sono i dati proprio dell'anno 2011 e dei primi mesi del 2012, per quanto riguarda le stragi del sabato sera, che comunque comprendono non solo la strage che appunto accade il sabato, ma vengono denominati così gli incidenti. Assolutamente. Innanzitutto, cosa si intende per stragi del sabato sera? È una campagna che la Polizia di Stato affronta da qualche anno, ed è quella di contenere il numero degli incidenti gravi che avvengono proprio nel fine settimana. Ovviamente non solo il sabato, ma anche il venerdì o la domenica mattina. Comunque, nelle prime ore del fine settimana. Si vede statisticamente che soprattutto i giovani ne sono coinvolti e nel fine settimana, quando si esce per divertirsi, si fa anche tardi. E allora che succede? Un mix di stanchezza, un mix di uso di bevande alcoliche, l'eccesso di velocità, tutti insieme creano un potenziale mix che ha causato negli anni una serie di incidenti molto gravi, tanto da essere definiti stragi del sabato sera, che generalmente accadono nelle prime ore appunto della mattina, verso le 4, le 5 della mattina, del sabato o della domenica. E al fine di contrastare questo triste fenomeno, chiaramente vengono fatti dei controlli. Vengono fatti dei controlli da parte delle forze di polizia in generale, della polizia stradale in maniera specifica, specifico. E vengono fatti dei controlli, le dicevo, con strumentazione, che sono etilometri, alcohol blow, dei precursori. Poi magari ne posso anche parlare. Sì, appunto nei fini settimana per far sì che i conducenti che hanno bevuto e hanno superato la soglia siano comunque bloccati, tra virgolette, prima di far rischiare di far danno ad altri e a se stessi. Ecco, perché ricordiamo che le vittime, scusi se la interrompo, non sono solamente i giovani, ma spesso accade che purtroppo i giovani che hanno bevuto, tornando a casa, vanno a fare un incidente con il padre di famiglia che magari sta tornando dal suo turno di lavoro serale e appunto distruggono la vita di altre persone. Quindi la vittima non è in genere, forse per la maggior parte dei casi è giovane, ma non solamente giovani. Sì, chiaro che sulla strada si può capitare di andare incontro con un'altra vettura guidata da chiunque. Però, come ne stavo dicendo, questo tipo di fenomeno colpisce soprattutto i giovani, perché si parla delle prime ore della mattinata e spesso sono incidenti autonomi. Cioè, sono da sé, come dire, si va a finire fuori strada, si va a sbattere contro un muro, si va magari in una curva presa ad alta velocità, si può capottare. E quindi, purtroppo, in questa provincia, anche quest'anno, si sono registrati incidenti di questo tipo e c'è stato un caso di una vittima che, nelle prime ore del mattino, ritirandosi verso casa, nello svincolo che va sulla strada provinciale, la 25, avendolo presa ad alta velocità, la macchina si è capottata. Si è capottata e, chiaramente, il solo, come dire, la forza centrifuga della macchina ha fatto sì che la ragazza sbattesse contro, diciamo, le parti interne e dure della macchina. Lei parlava prima delle cause. Le tre principali cause che provocano gli incidenti, quali sono? Sì, lei ha detto bene. In ambito europeo sono state individuate tre cause, quindi vale per tutto, come dire, dal punto di vista statistico. Noi parliamo sempre di statistiche, mi perdonerete, ma è per evitare di fare valutazioni. Le valutazioni personali possiamo anche fare. Però, se sappiamo che le tre maggiori cause di incidenti gravi con esito mortale, quindi incidenti mortali, sono causate l'eccesso di velocità, guida è stata ebrezza, è mancato uso delle cinture, se si contrastano, come stiamo facendo da un paio d'anni nel mio ufficio, queste tre condotte, è probabile che si riduca il numero delle vittime. Ora, non vorrei essere, come dire, eccessivamente in questo, come dire, positivo, però le posso dire, e mi riferisco sempre al dato Istat 2010, che il 2010 è stato l'anno con il più basso numero di vittime di questa provincia, del decennio, fatta eccezione per il 2004, che è stato un anno felicissimo, ha visto dove ci sono state solo otto vittime, ma si può spiegare probabilmente con, è stato l'anno che ha meglio, come dire, fruito dell'introduzione della patente a punti, che è stato appunto del 2003, e l'anno successivo è stato, da questo punto di vista, ha consentito di raggiungere risultati eccellenti, salvo poi peggiorare l'anno dopo. E' ancora della patente a punti, ne parleremo. Lei ha citato l'alta velocità, la stanchezza, il mancato uso delle cinture di sicurezza, e una di queste cause è stata proprio il motivo di un incidente, che ha portato una ragazza sulla sedia a rotelle. La testimonianza di questa ragazza, lei gentilmente ci ha concesso il video, che è la mostra, e lo vediamo insieme. Eravamo io, una mia amica e dei suoi amici. Un bellissimo fine settimana, discoteca, il giorno dopo piscina, fuori, e mentre andavamo al mare, non siamo più arrivati. Era solo stanchezza, perché non avevo proprio dormito quel fine settimana. Dalla discoteca, in piscina, così non avevo proprio dormito, quindi solo stanchezza. E noi incoscienti che non ci siamo resi conto che anche questa può essere una causa. Allora, quindi era 180, è andato contromano in curva, e è stato lo scontro con il camion. Sono addormentata circa dieci minuti prima che l'incidente succedesse. Per quello che mi hanno raccontato, sono uscita fuori dalla macchina da sola, trascinandomi, perché le gambe le avevo perse da subito. Il momento più brutto è quando mi sono svegliata dopo l'intervento, che ero lì ferma e non capivo niente. No, non mi hanno dato tante spiegazioni, perché i primi che ho visto sono stati i miei genitori, che a trovarmi lì ho chiesto, ma io cosa me ne faccio? Guarda, andiamo a casa, però... Poi mi hanno spiegato e quello è stato veramente il momento più brutto, quando mi hanno dovuto spiegare... Chi ha la sensibilità riesce, che ne so, andarsene un po' a letto quando fa male il sedere, sennò chi non ha la sensibilità può portare le piaghe, quindi si fanno i cateterismi per svuotare la vescica e si usano le varie purghe per andare di fuori. Lei mi ha cercato per un po', però, come ho detto, non voglio sentire. Non sono arrabbiata sicuramente con loro, ma secondo me loro non si sono fatti sentire, nemmeno io non li cerco, non mi interessa. Non mi cambia la vita con niente. Non vale la pena, se non ci sono stati quando avevo più bisogno, perché ci devono essere adesso? Se posso dire qualcosa, dico solo che la vita è bella e sicuramente non bisogna rischiare dove... Non lo so, non so cosa dirti, sai? Allora, comandante, lei parlava del sistema della patente a punti. Effettivamente ha portato a questo punto a risultati concreti, importanti? Sì, assolutamente. L'anno di introduzione di questo sistema è il 2003. Gli effetti positivi si sono già avuti l'anno dopo, tant'è che risultano sempre dati Istat il numero più basso in assoluto dei dieci anni di questa provincia dal punto di vista delle vittime e dei feriti. Poi effetto che purtroppo l'anno ancora dopo si è un po' perso, probabilmente anche a causa delle nuove ulteriori modifiche che prevedevano magari la possibilità di recuperare punti con dei corsi, per cui si è un po' vanificato questo effetto. Ora, secondo lei funziona più come strumento di deterrenza o è visto più come uno strumento sanzionatorio? Guardi, io credo che abbia tutti e due gli effetti. È sanzionatore sicuramente perché nel momento in cui io magari non metto le cinture e mi si vengono defalcati cinque punti dalla patente, è chiaro che una prossima volta magari pur di non perdere la patente ci sto attento e la metto. Però io vorrei superare il concetto della sanzione per poter applicare una legge. Io vorrei, desidererei che i cittadini ragusani e ovviamente anche tutto il resto d'Italia magari si arrivasse ad una cultura del rispetto della vita. E quindi se io so che se uso le cinture mi salvo la vita, se io so che se uso il casco mi salvo la vita, se io so che vado a velocità misurata e rispetto al posto dove sono, rispettando queste due o tre regole, quindi cinture, velocità e non bere, soprattutto prima di mettersi in viaggio, io credo che si possa fare, che non ci siano nessuna limitazione alla propria libertà e si garantisce la propria e l'altrui vita. Io credo che sia questo il messaggio, tant'è che da diffondere. Tant'è che noi in questo senso stiamo facendo più campagne di sensibilizzazione e devo dire sotto ovviamente anche il coordinamento, per esempio una importantissima, della prefettura di Ragusa. Stiamo con altri enti, con l'ASP, così come delle associazioni di vittime della strada e altri enti ancora. Stiamo facendo le campagne già da un anno di informazioni presso le scuole proprio perché crediamo che la informazione e la prevenzione siano il maggiore strumento di tutela, lo strumento più efficace per contrastare queste condotte. Le sanzioni ci vogliono, questo bisogna dirlo, perché non c'è una campagna efficace di sicurezza stradale che non passi dal controllo anche delle strade. Quindi è chiaro che, per esempio, mi piace fare casi pratici anche perché ho avuto la fortuna dal punto di vista di affrontare queste tematiche anche all'estero. In uno Stato come la Germania, che notoriamente si sa i controlli vengono fatti anche in modo fiscale, certe condotte sono limitate al minimo. limitate al minimo. Tant'è che, per esempio, in Germania si beve, si beve tanto, però la gente ha ormai capito che non si mette alla guida. Si organizzano per andare a piedi o col taxi. Ed è questo il suggerimento che noi diamo anche ai ragazzi. Laddove qualcuno abbia bevuto è magari intanto organizzarsi affinché magari uno dei ragazzi non beva. Questo sarebbe l'ideale. Ma se quella persona, perché veda, noi non vogliamo, come dire, demonizzare, non vogliamo dire di non bere, di non fare. Questo ognuno è grande e può anche stabilirlo da sé e anche può essere consigliato ai genitori. Noi diciamo soltanto se bevete non mettetevi alla guida. Solo questo, insomma. E chiaramente nel caso in cui qualcuno ha bevuto e magari ha dimenticato questo, aspettare e farsi venire a prendere anche perché bisogna dire che l'effetto del consumo dell'alcol non svanisce in un'ora, non serve il caffè, non serve niente, ci vogliono almeno sette ore per poter smaltire l'effetto dell'alcol. E non esiste saper bere o essere grandi bevitori o essere abituati. Certo è molto difficile quello che fate perché mi rendo conto che magari non bere o dire sabato sera nel gruppo, dire no io non bevo, risulta quasi tra virgolette, purtroppo sei uno sfigato, non rischi, ma no, ma credi a queste cose, ma è molto difficile convincere i ragazzi in questo perché comunque il branco, il gruppo è giovanile e queste condotte, significa fare parte di quel branco, significa essere leader, invece si rischia di essere quasi messi all'angolo. Con i ragazzi bisogna parlarci, io li trovo invece molto maturi spesso, molto maturi, più maturi di quello che noi pensiamo. Noi genitori siamo talvolta, o gli adulti siamo convinti che i ragazzi non recepiscono, non è proprio così. Bisogna parlarci e trovare anche il modo di comunicazione più efficace. Quindi anche a casa, l'importanza del dialogo è fondamentale. Il contatto, il colloquio tra genitori e ragazzi è fondamentale. Talvolta non avviene, talvolta non avviene perché i genitori magari siamo un po' più distratti, siamo un po' assenti, abbiamo sempre da fare, e magari non discutiamo con i ragazzi, prima di uscire magari potrà sembrare una raccomandazione banale, ma insomma cercare un po' di dire, non di vietare o di moderare, moderare la velocità, soprattutto di essere pronti e disponibili, dove i ragazzi ce lo richiedono, di essere pronti ad andarli a prendere, nel caso in cui abbiano bevuto. Benissimo, ora il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Mi piaceva proprio concludere questa puntata con questo messaggio che rivolte sia ai giovani, ma soprattutto agli adulti, ai genitori che se ne devono prendere cura. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata sul nostro sito all'indirizzo free tv online 1.it e sulla nostra pagina facebook free tv comiso. Grazie al comandante per essere stato qui con noi, magari con l'auspicio che presto ritorni per completare tutte le cose che ci sono da dire. e infatti all'interno di una tematica sempre così attuale. Grazie a voi per averci seguito e alla prossima. Grazie.